Salve a tutti e ben ritrovati In questo video oggi vedremo come usare il Digital Multimeter Tester comunemente chiamato tester o multimetro in questo caso nella versione digitale perché ci sono anche nella versione analogica facciamo qualche accenno sulle funzionalità del selettore del tester stesso e poi faremo qualche prova di misurazione di tensione di continuità di qualche componente elettronico tutti i multimetri in generale hanno diverse scale per poter misurare sostanzialmente quelle che sono le grandezze principali quindi la tensione in corrente continua, la tensione in corrente alternata l'amperaggio sia in corrente alternata che in corrente continua, quindi l'assorbimento nel nostro caso specifico questo tester, ma non tutti ce l'hanno ha la possibilità di misurare anche l'HFE l'HFE è il guadagno di un transistor quindi per poter verificare se il transistor in ogni caso è buono quindi è di tipo NPN o PNP se è funzionante o non è funzionante poi abbiamo una scala dove poter misurare i diodi e una scala di continuità e poi abbiamo la scala classica per misurare l'OM e quindi l'impetenza vediamo come poter... iniziamo a fare qualche prova iniziamo proprio dal HFE allora accendiamo il multimetro mettiamo sulla scala HFE in questo caso qui ho inserito un transistor BC547 che è di tipo NPN e qua ci sta a segnalare per l'appunto il valore di HFE quindi il guadagno che oscilla in base al tipo di transistor mettiamo per esempio di metterlo diversamente su un'altra tipologia di peridinatura perché quella standard è emettitore base collettore mettendola in questo modo per l'appunto non conduce niente quindi non ci dà nessun tipo di misurazione e quindi ci dice che la peridinatura è sbagliata mettendola invece per come dovrebbe essere quindi emettitore base collettore ci dà il valore di HFE quindi del proprio guadagno passiamo ora alla misura della continuità dove solitamente il simbolo è quello del diodo accompagnato di una nota musicale in questo caso il mio cicalino non è funzionante quindi quando uniremo i puntali per dare continuità avremo solamente sul display il valore 0,0,0,0,0,1 poco cambia quindi nell'ipotesi di prendere per esempio un filo per sapere se il filo è interrotto o meno mettiamo un puntale in un polo e l'altro puntale in un altro polo se questo dà valore 0,0,0,0,0,1 come in questo caso emetterà un BIP nel caso in cui funziona il cicalino significa che questo cavo è intero e quindi funzionante un'altra ipotesi in cui potremmo utilizzare la continuità è per sapere per esempio se abbiamo uno spinotto del genere e vogliamo sapere a quale filo corrisponde la massa che solamente è quella esterna e il positivo che è quella interna possiamo fare la seguente quindi mettiamo un puntale sulla massa esterna e poi un puntale su uno dei due fili capiremo che il filo nero è in questione e per l'appunto il negativo mentre se mettiamo il puntale all'interno non cambia in questo caso se mettiamo il nero e il rosso e mettiamo sull'altro filo il bianco sapremo che il bianco sarà il nostro positivo e quindi corrisponderà al connettore interno così anche per l'interruttore se vogliamo sapere la corrispondenza della levetta sopra e sotta a quale dei pin corrisponde solitamente in questo caso è un interruttore il puntale verrà messo in quello centrale che è il comune e l'altro puntale o sopra o sotto in questo caso la levetta che corrisponde verso sopra avrà unito questi due pin se sposteremo la levetta verso sotto sempre il comune centrale sarà l'altro pin a dare contatto poi passiamo per esempio alla misurazione di impedenza e quindi di resistenza prendiamo questa resistenza qui che ha come codifica di colore è marrone, nero, rosso quindi corrisponde a una resistenza di 1000 Ohm per misurare questa resistenza di 1000 Ohm per vedere se per l'appunto misura questa impedenza abbiamo una scala sul nostro tester che inizia in questo caso da 200 Ohm 200 Kilo Ohm 20 Kilo Ohm 200 Kilo Ohm 2 Mega e 20 Mega allora per poter misurare una resistenza di 1000 ovviamente non la possiamo misurare sui 200 quindi dovremo andare su una scala più grande superiore dovremo sempre andare sulla scala superiore della misura che dovremmo effettuare quindi se questa resistenza è di 1000 dobbiamo portare il tester nel selettore a 2K cioè 2000 Ohm mettere i puntali indifferentemente a destra e a sinistra perché qui non c'è polarità e misurare infatti questa resistenza misura 985 Ohm anche se la girassimo misurare sempre 895 anche se mettiamo il rosso e il nero invertiti misuriamo ora per esempio verifichiamo se questo diode LED è funzionante o meno ritorniamo indietro sulla scala dei diode quindi sulla scala della continuità e mettiamo un puntale da un lato e un puntale dall'altro lato in questo caso i puntali hanno la loro polarizzazione perché se il diode verrà polarizzato direttamente si accenderà tramite la batteria del tester stesso e ci indicherà una sorta di resistenza che ci sta a indicare che il diode è funzionante quindi mettiamo in questo caso il puntale rosso da questo lato e il quello nero da questo lato vediamo che il LED si accende e lì sul test viene misurata una resistenza e quindi significa che il LED è funzionante se invertiamo la pedinatura vedremo che il LED non si accende e lì nel test non misurerà nessun tipo di resistenza sta a significare che la polarizzazione giusta era al contrario quindi da questo lato dovremmo dare il positivo mettendo una resistenza ovviamente non in questo caso di misurazione e da questo lato sarà il nostro negativo se effettuando la misura anche in questo caso con questi puntali positivo da questo lato e negativo da questo lato non si accendeva e non misurava nessun tipo di resistenza significava che il LED per l'appunto era bruciato e quindi non funzionante ora passiamo alla misurazione di una batteria stilo e quindi di tensione continua quindi portiamo il nostro selettore sulla scala di 2 volt perché ovviamente dobbiamo misurare una batteria di 1,5 quindi una scala superiore di 2 volt perché se mettessimo a 200.000 ampere cosa succederebbe? ovviamente negativo col negativo e positivo col positivo lui ci segna 1 significa che il valore è di fuori scala quindi mettiamo il selettore sul 2 e mettiamo il negativo sul negativo e positivo sul positivo e misurerà 1,672 volt se mettiamo il puntale al contrario cosa succede? niente si sta a indicare che quel meno davanti che stiamo sbagliando a misurare di polarizzazione quindi bisogna invertire il puntale perché il verso giusto è negativo con negativo e positivo con positivo stessa cosa se misuriamo una batteria di 9 volt quindi la scala va spostata sui 20 e mettiamo il puntale positivo col positivo e negativo col negativo in questo caso aveva una batteria ricaricabile quindi è scarico e segna 2,93 se dovessimo invertire la polarizzazione ci metterà sempre il segno di meno davanti ciò sta a indicare che dovremmo invertire per l'appunto il puntale poi cosa potrei fare? nel caso in cui ora non lo facciamo ma nel caso in cui dovessimo misurare una corrente quindi la corrente di assorbimento di qualsiasi dispositivo o alternato o in continua se dobbiamo misurare quello in alternato ci dobbiamo muovere su questa scala se dobbiamo misurare invece l'assorbimento in corrente continua ci dobbiamo spostare su questa scala ma non solo dobbiamo spostare il puntale del positivo quindi il comune lasciarlo sempre qui se misuriamo in questo caso questo testo da due due opzioni se misuriamo fino a 2A dovremmo mettere il cavetto in questa sezione se invece misuriamo fino a 20A dovremmo mettere il cavetto da questa posizione qua questo perché? per avere una misura più precisa perché se andiamo a misurare 1000A capiamo che la scala da 0 a 2 avrà una precisione migliore rispetto che da 0 a 20A quindi se misuriamo sappiamo già di misurare un assorbimento maggiore di 2A metteremo il puntale da questo lato quindi sui 20A se sappiamo di misurare un assorbimento inferiore di 2A metteremo il puntale da questo lato questo è una tipologia di tester poi i tester sono similari ma ognuno ha le sue scale e ognuno ha le sue caratteristiche se dovessimo per esempio misurare un qualcosa che assorbe 2A metteremo il puntale negativo nella sezione COM e il puntale positivo dove c'è scritto per l'appunto 2A e come si comporta il multimetro il multimetro va messo in serie quindi mettendo caso di alimentare un motorino il negativo andrà direttamente sul motorino e il positivo passerà attraverso il multimetro così misureremo per l'appunto l'assorbimento di quel motorino quindi nel caso di misurazione di corrente quindi di assorbimento in corrente continua verrà messo sulla scala DCA in corrente alternata invece verrà messo su ACA ritorniamo il puntale al suo posto nel caso in cui volessimo misurare corrente alternata la scala è questa qui ACV e quindi nel caso in cui volessimo misurare una tensione superiore a 200 quindi la 220 che abbiamo a casa dovremmo mettere su 700 e inserire i puntali ma fare abbastanza attenzione all'interno delle prese per verificare per l'appunto se ci sono i 220V fare molta attenzione quando si misurano tensioni e si fanno misurazione in corrente alternata perché è molto pericoloso se non siete esperti lasciate stare la corrente alternata e per il momento accingetevi a fare qualche prova in corrente continua e misurazione di continuità di resistenza di diodi e quant'altro che non funzioni in corrente alternata perché lì ci sono rischi di ustioni e di come si dice in volgare si prende la scossa quindi abbiamo fatto una breve panoramica di come usare il tester quindi il multimetro digitale nelle sue funzioni basilari ripeto ogni multimetro quindi ogni tester digitale ha la sua funzionalità ma per sommi capi sono tutti similari perché le scale principali come dicevo all'inizio sono quella della misurazione in corrente continua e la misurazione in corrente alternata la scala ohmica per misurare le impetenze e il posizionamento della continuità e quindi sia per misurare il diodo che per misurare la continuità di fili e quant'altro con l'opzione di avere anche il segnale acustico qualora ci sia la continuità per l'appunto e poi ci sono le scale di misurazione dell'amperaggio quindi l'assorbimento sia in continua che in alternata e poi ci sono alcuni che misurano anche la frequenza ci sono quelle che misurano come in questo caso l'HFE dei transistor e ci sono anche quelle che misurano la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit se questo video tutorial vi è sembrato utile come al solito lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale e mi raccomando attivate la campanella così sarete sempre avvisati sui nuovi video ciao e alla prossima